ciao amici buon weekend e ben ritrovati qui in un nuovo piccolo appuntamento di presentazione di programmi che riguarda sia androide e anche ios oggi vi parlo di remix live che magari molti di voi conoscono è un programma che permette veramente di fare prodotti prodotti anche professionali insomma e non manca di nulla insomma c'è di tutto e di più è un'applicazione per la composizione la performance musicale semplice e intuitiva ha circa 20.000 26.000 suoni distribuiti in vari pacchetti vari stili insomma che vengono aggiornati ogni ogni pacchetto a 48 loop 48 campioni 48 sequenze chi ne ha più ne metta e praticamente qui c'è solo le nostre capacità da mettere in funzione perché non manca nulla e le possibilità sono a 360 gradi qui praticamente c'è una libreria enorme di campioni che può essere ampliata enormemente anche da noi perché possiamo aggiungere campioni nostri insomma di tutto e di più e con un'ampia effettistica da lavorare su qualsiasi campione o sulla traccia e poi anche intervenire sul sul campione stesso insomma praticamente manipolarlo e chi ne ha più ne metta questa è praticamente un must per quanto riguarda la creazione a portata di mano della musica insomma in generale i campioni sono royal free per cui possiamo condividerli con i social roba youtube chi ha più ne metta c'è un potentissimo sequencers c'è la possibilità di creare remixare e chi ne ha più ne metta c'è di tutto di più praticamente importare importare i vostri campioni da mettere mp3 wave acc m4 rife 16 24 byte e poi come vedete modifica i tuoi campioni campioni moda play loop on one shot gate quanti the game pan pan loop division reverse e chi ne ha più ne metta sincronizzazione mislize con cross dj pro qualsiasi applicazione di os compatibile colinco abito live controllo effettistica livelli filtri multi os equalizzatore a tre bande suoni canali registrare l'ingresso live attraverso microfono e catturare qualsiasi suono voce o strumento da implementare in remix live creare nuovi pacchetti misando abbinando campioni da pacchetti e via di seguito qui c'è da fare un abbonamento chiaramente per avere il tutto ma diciamo che alla portata di mano una cosa da dire che siamo di fronte a una super applicazione musicale con oltre 10 milioni di download e viene aggiornata spessissimo insomma beh che dire siamo di fronte a una stupenda applicazione musicale sentiamo qui qualcosa su remix live la demo grazie a tutti suono con 26.000 suoni già nell'applicazione considerando che si possono manipolare i suoni e considerare che infinitamente si possono caricare altri suoni. Comporre con sequencer a passi, importa e modifica i samplers, suona con la batteria, disporre sulla timeline sequencer chi ne ha più ne metà, 9,2 minuti settimanali e chi ne ha più ne metà. Questo lo trovate sia per quanto riguarda android che ios prodotto dalla mixvivas e veramente lo consiglio vivamente perché ci troviamo di fronte a un'applicazione che diciamo ti permette di lavorare a 360 gradi. Non ci sono scusanti perché oltre che avere un miliardo di suoni già a disposizione manipolabili con effetti e intervento si possono caricare infinitamente i nostri suoni e anche voce e roba che ne ha più ne metà. Per cui diciamo che qui c'è solo da sbizzarirsi e dipende solo dalle nostre capacità di musicista o creativa e chi ne ha più ne metà. Beh allora con questo io vi saluto, vi auguro ancora buona giornata e buon weekend, spero di esservi stato utile, ringrazio della vostra visione e vi prego di sottoscrivere al canale insomma e ci sentiamo, ci vediamo alla prossima e provatela insomma. Ciao a tutti, ciao, buona giornata.